Il Fleggetonte, lo terzo rio infernale. Da dove scorrono i fiumi? Nell'isola di Creta ve una montagna chiamata Ida, che già fu ricca d'acqua, ma è un deserto. Dentro Ritta rimane la figura di un grande vecchio. La testa di Finoro formata, puro argento le braccia e il petto. Poi di rame fino alla forcata, da Ida in giù tutto di ferro, salvo il piede destro che è di terra cotta. Lagrime piange egli che scavano un passaggio in una grotta. Il loro corso in questa valle giunge da roccia a roccia, formando l'Acheronte, l'Ostige, e cui il Fleggetonte. E sin dove scorre da qui? Giù per questa roccia scorrono, e quando la discesa si interrompe, l'acqua e raccolte formano il Cocito. L'Al vedrai. Inutile parlarne. Francesco! Fratello mio! Tu... Tu mi hai fatto questo! Aspetta, ascoltami! Non meriti di essere il servo di mia sorella! Figuriamoci il suo signore! Ora paga per ciò che hai fatto! Francesco, no! Non si può fare anche per me! Non si può fare anche per me! Non si può fare anche per me! Grazie per la visione! 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 Grazie! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!